Ciao ragazzi, oggi sono con il mio amico Gerry e faremo una Browning M2 per Softail. Questo è ciò che mi ha portato Gerry. Mi piacciono sempre le cose piccoline. Sì, sì, piccolissima. Un metro e ottanta di lunghezza per 18 kg di peso. E al momento non ha nessuna meccanica interna. Oggi cominceremo però con il lavoro di progettazione. Intanto mi scuso per la scarsa qualità dell'audio del video introduttivo, ma stavo aspettando il nuovo microfono. Come potete vedere stiamo lavorando alla progettazione di ogni singolo pezzo che andrà montato sulla nostra replica. Adesso voglio spendere un paio di parole sulla nostra replica. La Browning M2 è una metrighatrice pesante progettata dopo la seconda guerra mondiale da John Browning. Monta un calibro 50, quindi cartucce calibro 50, della dimensione di 12,7 x 99 mm. Ed è un'arma molto efficace contro fanteria leggera, piccoli mezzi brindati, barche, aereo a bassa quota e piccole fortificazioni. Quindi ciò che mi ha portato il mio amico Gerry in realtà non è altro che una scatola vuota, una scatola metallica, a cui è stato saldato un tubo anteriormente. E le uniche particolarità sono questo dissipatore di calore anteriore e la parte superiore dell'arma che ha questo disegno particolare. Per il resto in realtà tutta la scatola è una scatola perfettamente vuota. Adesso, lista alla mano, vi vado a dire quello che manca ancora su questa replica. Quindi manca il treppiedi, il fintotturatore con leva, di chiudere un buco sul lato sinistro della fiancata, il tappo anteriore per la canna, un'impugnatura nuova posteriormente, i perni per l'apertura anteriore di questa parte qui, poi rendere ispezionabile la parte superiore e posteriore della replica, dove andrà infilato all'interno il meccanismo di rinculo, le alette estetiche ai bordi della replica andranno messe qui e qua sotto, dopodiché il motore e il meccanismo di rinculo, che poi vedrete più avanti come lo realizzeremo, di montare all'interno l'M4 con la sua relativa canna da 50 mm, carteggiare tutto, riverniciare tutto, un caricatore esterno grande dove possiamo inserire all'interno un caricatore da soft air maggiorato elettrico, poi tacche di mira posteriori con rail, altri fuori dal tubo, di raffreddamento, ok, poi ci sono anche da fare altri fuori sul tubo di raffreddamento, altri 12 fuori perché esteticamente questi non vanno bene, e poi procurarsi un tubo per la canna interna, ma questo già il primo giorno l'abbiamo trovato. Quasi dimenticavo, manca anche un tubo esterno da infilare praticamente all'interno del dissipatore e esternamente alla canna, dove poi andrà attaccata una maniglia per il trasporto della replica. E adesso un piccolo assaggio di quello che abbiamo fatto in mezza giornata di lavoro. Bene, il lavoro di oggi si è concluso, questa qui è la parte dell'otturatore laterale che dovrà andare qua, sono due pezzi, uno inferiore e uno superiore, da prendere e da creare su questo stampo che abbiamo fatto. Questa qua è la leva di armamento, una parte della leva di armamento. Niente, solo questo abbiamo fatto, tre ore e mezza di lavoro, un disegnino che ci è uscito e un pezzo di tubo. Insomma, quindi questo sarà un progetto molto interessante, ma dilazionato nel tempo, perché lavoreremo a questa replica soltanto quando verrà a trovarmi il mio amico Gerry. Ragion per cui ho deciso di dare a questi video una forma di vlog, e quindi farò uscire all'incirca un video a settimana, o un video ogni due settimane, o comunque appena si mettono mani alla replica. Questo primo video è finito, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i progressi sulla realizzazione di una mitragliatrice Browning per Softair. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS